Eccoci qui, un saluto, come state ragazzi? Ben ritrovati, un abbraccio a tutti dai campioni d'Italia, vi invito come sempre all'inizio di ogni video, lo sapete, a lasciare un like e a iscrivervi qui in questa zona se lo avete ancora fatto. Rapidissimo, in 10 secondi, per vincere la maglietta del Milan della prossima stagione, di questa stagione non prossima, scaricate gratuitamente l'app numero YES che è qui sotto nel link in descrizione, scaricate da questo link e scrivete il vostro nome. Uno di voi viene estratto e domenica si porta a casa la maglia del Milan, che avete visto come questa, non questa, che è la mia, personalizzabile poi con i giocatori che volete. L'app con tutte le notizie esclusive, live, calciomercato, interattiva, ci siamo anche noi. Allora ragazzi, si avvicina la seconda giornata di campionato che è iniziato bene, ricordando una cosa, che l'anno scorso il Milan, voglio parlare con voi come davanti alla macchinetta del caffè oggi. Ricordando l'anno scorso, il Milan con l'Udinese aveva fatto due pari, quest'anno siamo a tre punti contro un avversario comunque ostico. Abbiamo visto anche le altre, hanno vinto tutte, non mi aspettavo diversamente. A me il Milan ha fatto una buona impressione, ha detto che dobbiamo registrare qualcosa dietro, lo sappiamo. Abbiamo avuto di fatto due gol subiti per due disattenzioni. Bisogna lavorarci, bisogna migliorare e miglioreremo sicuramente. Detto questo, ovviamente aspettiamo anche la chiusura di questo calciomercato, che ci deve regalare qualcosina. Però, insomma, c'è un primo dato che voglio porre alla vostra attenzione. Cioè che il Milan è l'unica squadra a non aver schierato titolari. Cosa che per il tifoso può non essere vista di buon occhio, perché c'è sempre desiderio, sete di novità. Il nuovo, lo vediamo in campo, impazziamo, non vedo l'ora di vedere deketlare in campo. Sono stato io il primo a dirlo, add di quando lo vediamo. Però il fatto che tu non hai schierato i nuovi, in questo caso non è perché non li hai presi o perché non sono validi, ma perché hai portato avanti una sorta di continuità. Che è cosa buona e giusta, non a regime, ma all'inizio sì. Perché il Milan, lo ricordo sempre, rispetto a un sentimento che vedo un po' troppo, non dico pessimistico, ma molto low profile, non per scaramanzia, ma per, non so, quasi disfattismo, il Milan comunque è una squadra che rispetto alle altre ha più continuità tecnica. perché Pioli è lì da più tempo rispetto a Allegri, rispetto a Inzaghi, rispetto a Spalletti, rispetto a Murigno e quindi questo è un vantaggio, perché i meccanismi sono davvero liati e si può alzare ulteriormente il livello. Ho sentito dire da molti, l'abbiamo detto noi, ma possiamo essere di parte, che il Milan è una squadra che gioca a memoria. Nel precampionato l'ho fatto, l'ho fatto anche adesso. E' una cosa che mi dà fastidio, però sinceramente, è che il Napoli, i tifosi del Napoli, hanno, il Napoli ha svenduto, hanno perso i giocatori più importanti, Koulibaly, Mertens, Insigne, va via Fabian Reutz, hanno una squadra che è molto ridimensionata, anche se hanno fatto nuove acquisti, eppure hanno euforia, mi sembra in questo momento, superiore a quella del Milan. Eh, io dico una cosa, lo dico a tutti, visto che siamo una bella community di 83.000 fratelli e sorelle rossonere, direi che dovremmo avere tutti un po' più di fiducia nei confronti di questa squadra dirigenziale e di questa squadra in generale, di questo Milan. Questa cosa qui, ragazzi, ha un valore, ha un significato, siamo stati più bravi l'anno scorso e dobbiamo difendere questa cosa qui. Abbiamo più consapevolezza come squadra? Si dice sempre, con lo scudetto il giocatore ha più esperienza, ha più fiducia, ha più consapevolezza, appunto. Eh beh, ragazzi, su questa maglietta ce l'ho anche io lo scudetto. Sulla vostra maglietta, chi è in pigiama, chi è già che è gravata, chi è in camicia, lo scudetto, anche se non lo vedete, c'è. E quindi anche voi tutti, noi tutti dovremmo avere un po' più di consapevolezza. E non dico di euforia, ma di fiducia, di positività, nell'accezione buona, non in quella negativa che abbiamo conosciuto negli ultimi due anni, legata ad altro. Perché se c'è energia positiva attorno, la si trasmette anche alla squadra, che non ha bisogno di tossine, come dico spesso. E poi, comunque si va, lo stadio è prima giornata quasi tutto pieno. Eh, io credo che tra quelli che siano andati allo stadio ci sia anche qualcuno dietro questo schermo, ci sia anche qualcuno che magari poi nei commenti, sui social, nei dialoghi, dice che pizza, non stiamo prendendo nessuno, gli altri sono più forti, non abbiamo preso nessuno, eccetera, eccetera. Però poi si va allo stadio. Teniamo questo lato, le vibrazioni positive. Ad esempio, lo dico, ma non per aziendalismo, visto che qualcuno dirà anche questo, io non lavoro per il Milan, tifo Milan, lavoro col Milan, ma non per il Milan, quando c'è da muovere le critiche le muovo. Però ragazzi, togliamoci di dosso questo fare disfattista, Taffaziano, che non ci appartiene. Storicamente appartiene a un'altra tifoseria, ma non a quella la cui sede adesso in via Aldorossi, il proprio club, intendo. Valorizziamo lo scudetto e non perdiamo energia in qualcosa che comunque non possiamo cambiare. Lo abbiamo capito. Elliot, campagna acquisti faravani che non le fa. Abbiamo capito che arriverà cardinale, più o meno si andrà avanti su quella falsa riga. E quindi, quello che non puoi cambiare, prendilo un po' più con filosofia, anche se ogni tanto fa un po' di rabbia, lo so. Dall'altra parte, questa campagna acquisti, seppur non fara onica, ci ha visto rafforzare enormemente il reparto d'attacco. Apprezziamolo, perché l'anno scorso noi avevamo la coperta molto corta, abbiamo aggiunto un Orig, abbiamo aggiunto un Adli, abbiamo aggiunto un De Ketlar, abbiamo recuperato un Rebic, abbiamo un Leao che può migliorare, apprezziamoli questi fattori. Poi vedo sotto il video dell'altro giorno i commenti Leao ormai è un ex, ha la testa altrove, si vede che ha distratto, non pensa più al Milan, pensa già al futuro, Leao non va da nessuna parte. Oh ragazzi, ricordiamoci Leao parte finale della scorsa stagione, quando comunque leggevamo prima anche questi commenti. Leao ha sbagliato una partita, ok, una su una al 100%, ma è una partita, mi sembra che un po' di fiducia a lui se la sia meritata. Evitiamo questi commenti, queste situazioni che non portano bene il Milan e di Leao in questo caso. Ho letto anche, ripeto, oggi è come se ci sfoghiamo tutti a vicenda, anche con i vostri commenti davanti alla manchietta del caffè tra buoni amici, in pausa pranzo, piuttosto che a colazione, appunto, a fare la merenda a seconda di quando vedete questo video. L'altro punto è, ecco, Pioli, Pioli Adli lo brucia, non lo vede proprio, non lo fa mai giocare, siamo rovinati, bruciamo anche Adli, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, una partita abbiamo fatto, Adli ha 21 anni, non si può giocare in 25. Ha giocato Diaz, ha avuto ragione il mister, è entrato De Ketar, che ha fatto bene, e la partita non deve essere un momento di esposizione del nuovo. Non bisogna mettere in vetrine il nuovo, esibire il nuovo. È un momento in cui bisogna portare a casa i punti. Non è vero che Adli non lo vede. Adli l'ho apprezzato, ha detto quando, l'ho fatto proprio la domanda in conferenza stampa, quando abbiamo inaugurato la stagione, devo capire, conoscerlo, capire meglio, però ha grandi qualità. Adli, credetemi, fidatevi, fidatevi, giocherà tanto, magari non tanto dall'inizio, magari in corso entrerà tanto Adli. Non è entrato in una partita, ma non per questo Pioli non lo vede. No. Ragazzi, evitiamo questo tafazzismo, che ripeto, non appartiene storicamente alle tifoserie del Milan, che ha questa cosa qui. Io dico, senza lo scudetto, allora sarebbe tutto catastrofico. Poi, ovviamente, è un messaggio non per tutti, però c'è una buona parte che non riesce a vivere bene questo inizio di stagione che ci ha visto. Arrivare con lo scudetto, fare un ottimo precampionato, partire bene, perché secondo me siamo partiti bene da squadra, e poi dobbiamo mettere ancora dentro i nuovi, che li mettiamo già nelle prossime partite. Stiamo tranquilli, ripeto, e dall'altra parte ci aspettiamo queste operazioni, il centrocampista, il difensore. Devo dire che io l'anno scorso a gennaio dicevo, ma come, non bisogna, come si fa a non prendere il difensore, eccetera, eccetera. Ragazzi, hanno avuto ragione loro. Calù è diventato un top, top, top. E quindi, esprimiamo i nostri pareri, dopodiché credo che questa dirigenza un briciolo, molto di più, un briciolo, molto di più, di fiducia nel frattempo se lo si è guadagnato. E quindi aspettiamo, vediamo che cosa fanno, che cosa vogliono fare, che cosa hanno in mente. Ma diamo loro fiducia. Le critiche a loro, secondo me, sono ingiustificabili, inaccettabili. Le critiche, semmai, si possono fare a chi, da sopra, non dà un portafoglio un po' più ricco. Però, anche se critichi questi, purtroppo, non cambiano idea. Quindi, ragazzi, ricordiamoci che questa cosa qui l'abbiamo stampata sulla maglia di Milanello, che trovate su milanello.com, non sulla maglia di Interello, piuttosto che di Juventello. E quindi, ragazzi, non diamo anche spago agli altri, che ci sguazzano poi, se ci vedono in una certa maniera. Carichi, carichi, non dico euforia, ce la dobbiamo guadagnare con il tempo, però energia positiva, sulla squadra, intorno alla squadra, perché positività, porta positività. Ripeto, un'accezione quella buona. È un video un po' diverso dagli altri, me ne rendo conto, però, ecco, questa è la nostra community, si può dialogare, chiacchierare sempre con civiltà. Chi non è civile viene bloccato, lo sapete, perché voglio proprio mantenere nella nostra community un livello alto di civiltà, rispetto, educazione, cosa che deve esserci ad ogni livello in società. Ditemi che cosa ne pensate, vi mando un abbraccio, forza mi nogi più che mai, domani ancora di più, lasciate un bel like, iscrivetevi qui, numerosissimi, scaricate l'app DDS, eccola qui, uno di voi si porta a casa domenica alla maglia del Milan. Ci vediamo dopo.